signori buongiorno e benvenuti alla quest del master kai io sono il master kai il vostro ospite per questa sessione oi quella ok non perdiamo altro tempo l'altra volta c'eravamo fermati che voi stavate cercando la locanda quindi diciamo che stavolta riprendiamo da voi che avete trovato la locanda ed entrate la locanda è un grosso edificio di legna e pietra c'è una stanza comune con dei tavoli un grosso bancone con sopra un cartello che dice non si offre servizio agli orchi dietro c'è un oste un uomo panciuto che vi dice che se volete mangiare vi costerà una moneta di rame se volete sia mangiare che dormire ve ne costerà tre lui sopra c'ha delle stanze apposta per le creature italia grande le creature italia piccola quindi da questo punto di vista non ci sono problemi la stanza comune ha dei tavoli pieni di gente che mangia chiacchiera tra di loro non c'è il caminetto perché al centro della stanza c'è questo grosso congegno magico che a quanto pare riscalda l'ambiente ok cosa fate ma io appena l'hoste si allontana chiamo lui e gli dico in personaggio o a me questa cosa che discriminano gli orchi mi sta sulle balle cioè io prima di fare l'avventuriero in un esercito ed era pieno di dei razzisti del genere e alla prima occasione ho piantato un pugnale nella schiena del mio sergente sono scappato per non sottostare le regole del genere si guarda è questo il più piccolo violino del mondo che suona per tutti gli orchi diseredati dal regno piuttosto io mi guardo intorno c'è qualcuno che attira la mia attenzione guarda quelli che attirano di più la tua attenzione sono un paio di nani seduti a un tavolo vicino al vostro stanno armeggiando con un qualche tipo di oggetto magico non riesce a vedere bene provo a identificarlo non sapresti dire ti sembra innocuo probabilmente un giocattolo no no tirato basso sicuramente non è un giocattolo appena questi qua vanno a dormire noi gli entriamo in camera li sgozziamo glielo rughiamo e poi lo portiamo a far identificare dei maghi quelli dell'accademia io odio questo gruppo se vi state chiedendo il perché di quello ci arriviamo con calma da questa settimana cominciamo a parlare del metagioco ora nell'uso comune del termine quando si parla di metagioco ci si riferisce al fatto che un giocatore comunque uno dei membri del tavolo abbia fatto un riferimento esplicito alle regole o a delle conoscenze che non dovrebbe avere e quindi abbia rovinato l'immersione o comunque contaminato la fiction in pratica quando si pensa al metagioco si pensa a questo no no tirato basso sicuramente non è un giocattolo ora effettivamente sì questo è un possibile esempio di metagioco il personaggio non può conoscere quale sia il risultato della sua prova il master ha detto che quello sembrava un giocattolo per quello che ne sa il personaggio quello è un giocattolo il giocatore ha preso delle decisioni su come far agire il suo personaggio non in base alle conoscenze del personaggio ma in base alle conoscenze del giocatore stesso che il personaggio non poteva avere per quanto questo si possa considerare il metagioco questo è solo uno dei possibili casi in cui il metagioco possa manifestarsi al tavolo e nella realtà non è neanche quello più frequente prima però di entrare nel dettaglio dobbiamo parlare di un paio di concetti legati alla teoria narrativa quando si analizza un'opera narrativa può essere un film può essere un romanzo può essere una recita teatrale nel nostro caso la quest di un gioco di ruolo la si scompone in tre diversi livelli di informazione il primo livello diciamo quello più facile è il testo ovvero sia quello che viene esplicitamente detto all'interno della quest vi è poi a fianco a questo un altro livello il paratesto è una cosa che spesso viene sottovalutata ma è un discorso lungo ne parleremo in un altro video tra un paio di settimane quello che interessa a noi questa settimana è proprio il metatesto o nel nostro caso il metagioco quando si parla di metatesto si intende che all'interno del testo è presente o un altro testo o un riferimento a un altro testo quel meta iniziale intende proprio che si modifica il testo o si va al di là del testo in pratica il metatesto è o una storia indipendente che avviene all'interno della storia principale o un elemento della storia principale un elemento del testo che cambia di significato se lo si confronta con il riferimento a un altro testo di conseguenza molti degli elementi presenti all'interno di una qualunque sessione di gioco sono di per loro stessa natura elementi metatestuali probabilmente il metagioco più comune è quello legato al background del personaggio quando un personaggio fa riferimento a qualcosa che è presente nel proprio background per definizione non sta riferendosi a qualcosa che è presente nel testo cioè nella quest che è stata metagiocata ma a qualcosa che è presente in un altro testo cioè il retroscena del suo personaggio questo ragionamento ovviamente vale allo stesso modo anche per i png ogni volta che un png agisce o si muove in base a qualcosa che non è stato esplicitamente detto in quest sta di per sé metagiocando è anche possibile che elementi di metagioco del genere vengano volutamente inseriti all'interno del testo ad esempio i giocatori potrebbero incontrare il vecchio saggio che spiega loro la triste storia che ha portato il buon barone a diventare il malvagio barone dopo una delusione amorosa quella sarebbe una storia che viene raccontata all'interno di un'altra storia quindi di per sé ancora una volta un elemento di metatesto si parla di metatesto o nel nostro caso di metagioco anche quando un elemento della campagna fa un riferimento implicito esplicito a qualche altro elemento di qualche altro gioco di qualche altro testo o anche del mondo reale questo può avvenire sia sulla macro scala cioè che vada a influenzare il significato di tutta la campagna sia sulla micro scala sulla macro scala per esempio nel nostro caso i mezzorchi venivano discriminati questa è una cosa molto comune in tante ambientazioni fantasy mezzorchi e mezzelfi subiscono qualche forma di discriminazione razziale nel descrivere come si manifesti questa discriminazione all'interno del gioco nello show don't tell il master potrebbe fare riferimento ad alcune forme di discriminazione simile che sono avvenute o stanno avvenendo nel mondo reale un grosso bancone con sopra un cartello che dice non si offre servizio agli orchi ora questo all'interno del testo significa semplicemente che in quel posto di quella ambientazione i mezzorchi sono discriminati ma sarebbe estremamente difficile per i giocatori slegare questo concetto da quello che sanno sulla discriminazione nel mondo reale di conseguenza quel cartello assumerebbe un significato molto più sinistro se lo si compara a cartelli simili che sono apparsi nel mondo reale ovviamente questo può essere usato anche in modi molto più leggeri e su scala molto più piccola un personaggio potrebbe essere creato per ispirarsi a un altro personaggio di un'altra ambientazione o di un altro testo anche lo stesso master potrebbe inserire degli elementi o dei png che facciano espliciti riferimenti a qualche altro tipo di opera fondamentalmente è da questo tipo di metagioco che nascono tutti gli infiniti cloni di ranger draw con due armi uguali a dritzit d'orden e perché ogni membro della gilda dei ladri che incontrerete in una qualunque ambientazione parla e si comporta come se fosse uscito dal padrino volendo applicare la definizione in modo letterale si potrebbe anche dire che la maggior parte di quello che avviene in una quest in realtà è metagioco la maggior parte degli elementi che permettono la coerenza del mondo infatti difficilmente vengono detti esplicitamente durante la quest ma vengono lasciati in realtà alle conoscenze dei singoli giocatori quando gli avventurieri arrivano alla locanda il master gli dice che la locanda ha stanze più grandi e stanze più piccole per accomodare umanoidi più grandi o più piccoli gli spiega che la stanza comune non ha un caminetto perché in questo mondo le stanze vengono riscaldate con la magia questi elementi vengono esplicitati perché non fanno parte dell'esperienza comune dei giocatori però il master non ha perso tempo a spiegare a cosa serve il denaro quando il locandiere dice che vuole delle monete di rame per offrire i servizi né ha spiegato come funziona lo scambio di servizi tramite valuta sono tutte cose che si dà per scontato che i giocatori già sappiano perché fanno uso di denaro ogni giorno nel mondo reale questi elementi però non sono mai stati detti esplicitamente all'interno della quest di conseguenza il fatto ad esempio che i personaggi sappiano cosa sia il denaro è un elemento metatestuale di conseguenza metagioco nella pratica senza fare ricorso a elementi metatestuali di questo genere sarebbe quasi impossibile raccontare la storia stessa perché ogni singolo elemento della storia dovrebbe essere esplicitamente spiegato all'interno della storia stessa il master dovrebbe ogni volta rispiegare da capo che le pistole servono per sparare che l'acqua si beve che il fuoco brucia ma in realtà non è così il master esplicita solo quello che effettivamente i giocatori non possono sapere e il resto viene lasciato esplicitamente alle loro conoscenze di persona comune diciamo che per questo video è tutto per questa settimana abbiamo fatto solo un'introduzione generale a che cosa sia il metagioco settimana prossima per l'arte del masteraggio andremo a vedere come utilizzarlo all'interno della propria sessione quali sono i modi utili per utilizzarlo e quali sono i modi che dovrebbero essere evitati fino ad allora intanto mi piacerebbe sapere da voi come avete incontrato il metagioco se lo sfruttate o non lo sfruttate all'interno delle vostre campagne scrivetemelo nei commenti qui sotto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella se volete ricevere le notifiche io sono il mastercae noi ci vediamo nel prossimo video